1, 2, 3 Benvenuti a tutti voi ragazzi, io sono Antonio e Penza e benvenuti su questo canale Oggi siamo qui per commentare il gran finale di LOL 3 Chi ride for? Questa stagione incredibile che non ci sta facendo tantissimo ridere Incredibile per il non far ridere, il riuscire a non far ridere Però speriamo in un grandissimo finale, magari nel finale rideremo di brutto Esatto, però tu che ne sai che quest'anno l'obiettivo era quello di non far ridere? Chi lo sa? Magari nessuno l'ha capito e questo è il plot twist Non penso però Diamo una possibilità Vi chiediamo io e Silvia, Gesù e Silvi di lasciare un like qua sotto per supportare il video Basta pochissimo dai Cliccate like e ci supportate, è semplice, è gratis, non è che non si paga Va bene, LOL 3, chi ride è fora Ci eravamo lasciati con una eliminazione in corso Mi pare, giusto? Sì, c'è stata una risata, bisogna scoprire chi ha riso Sicuramente non noi Ma poi basta, poi sembrano polemici Non possiamo dire niente E poi ci dicono che lo facciamo quasi obbligati Controvoglia, non per curiosità Chiariamo, noi avremmo visto comunque, lo stiamo vedendo con voi, sul mio canale, faccio il c***o che voglio Se non ti piace, ci sono 500 canali su YouTube, schippe e ti guardi Ma soprattutto, no, quello che volevamo dire è Noi siamo veri, portiamo la voce del popolo O comunque, quello che sentiamo, se non ci fa ridere, è che dobbiamo ridere obbligati No No, perché non ci pagano Se ci avessero pagato, avrei riso a crepa pelle Posso dire, secondo me ha riso lui ed è l'unico concorrente nella storia ad ammonirsi e eliminarsi Allora Pierino va Che cosa lo guardiamo a fare adesso, amore? Beh, ciao, lasciate like Grazie, arrivederci Pierino è stato bellissimo Grazie Allora Luca, grazie Luca ho perso la scommessa L'hai persa? Io ho detto Marina, io sono ancora in gara Marina è ancora in gioco Dobbiamo salutare il ragazzino Frasica che è stato espulso Vai, ripartiamo Andiamo Io con questa testa io potevo fare lo scienziato Sì, sì Invece hai fatto il c***o C'è un, non so, un disagio, una ricerca, una confusione, nessuna delle idee chiare Esatto, non si è creata quella sinergia tra di loro Mica come noi due che abbiamo questa scintilla incredibile Questa sinergia lavorativa, capito? Anche amorosa e passionale Questa donna che ogni giorno mi devasta Dovevi venire con le scarpe da ginnastica però le pumarola Questo, questo era bello No ragazzi, benvenuti al villaggio Capofaro Beach Ok, Luca fa il capo animatore sardo Aspetta che facciamo bere Rocco Senti, tu che sei forzutto Sei per cortesia Allora, dopo barman Stai prendendo un botto È vero, da barman in poi Va bene, dai Rocco, adesso ti riporto di là Vai, 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 vai Che c***o Che c***o Che c***o Che c***o Che c***o Attenzione La casa di Marta Ma chi sta facendo? Maria Paola, ciao Senti No, io sono tornata adesso dal maneggio Affanadonna di classe Alta borghesia Il mio personaggio più famoso è indubbiamente la signora di Roma Nord Beh, pariolina Cosa devo fare? Sandra Milla, ecco che Sembra È vero, lo ricordo un sacco Posso sapere per grazia e cortesia cos'è questo vento di ribellione che soffia tra le fronde delle mie balle? Io ho saputo che vai in campeggio con un indigeno, è corretto? Solo perché non è di Roma Nord Esatto Secondo me Brenda qua dovrebbe arrivare e fare una roba Milanese Un fumo al volo Sì, ma questo fa male pure Ragazzi, il futuro della comicità Eccolo Off stage Si va Siete tutti obbligati ad ascoltare chi si esibisce Oh, dai Ah, vedi? Io continuo col cinghiale Guarda le ascelle pezzate di Paolo Di Luca C'è uno spettacolo Io sto per perdere le speranze Herbert, ti prego Ti imploro Adesso è Herbert Einstein Sono lo scienziato Mariano Comense Questo mi piace, aspetta eh Quante volte la mattina ti stai vestendo e dopo aver indossato la camicia Non ricordi più quale indumento metterci sopra Quante? Niente paura perché ho inventato Ah, giacca Prima giacca che ti fa ricordare di mettere la giacca Ehi, ci vado io sopra la camicia Sono la giacca Ma è l'intecolo? Che ventriloco Questo è un cuore Te vi sarà capitato Specialmente alle persone che possedono un cane Di essere attaccato dai vampiri È successo anche a noi Sì, sì, a me da sempre Da quando la lady Però dipende Non è che ti attaccano ogni giorno, eh Per questo affannoso problema Ho inventato Non mi fa ridere sta cosa Don't do Gwyn's aglio È per agontanare Bellissimo Da oggi potrei lavarti con lo stesso aggeggio Sia i denti Che le zone intime Ho inventato Il Spazzolano Quante volte mentre ti stai lavando Hai sentito l'irresistibile bisogno di ballare musica cubana E non hai mai potuto farlo? È successo proprio ieri Niente paura perché ho inventato Do cia 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 Bella Ah, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, Herbert Finalmente, ragazzi Perché siamo agli sgoccioli E sono 150 comici ancora dentro, eh Dopo quattro ore di giochi di parole Abbiamo un'eliminazione, guardiamo È caccamo Occhio se cade la saponetta Raga, è facile La stessa risata di prima Una risata liberatoria in contenuta E... Cioè... Grazie Silvia Caccamo Sei ufficialmente eliminato da LOL Ti vediamo incontro al Room Dopo È stato bravissimo, Fli Beh, da un applauso anche a Caccamo Dai, dai Dai, partiamo LOL Che ride fuori Si riparte Quante volte, mentre se in giro iniziano a sanguinarti copiosamente i denti? Ma lui continua, quante invenzioni Ma non preoccuparti perché ho inventato Assordenti Ha riso, eh? Lui sta per riso, secondo me riderà da solo Assordenti vengono inseriti direttamente sulle genzive sia sopra che sotto Genzive? Genzive Potrei... Oh Ah 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 Guarda, pure sconciato, Fenix E d'ora in poi siete tutti ammoniti Adesso sono tutti in pericolo Tutti con il pepe nel... Ripartiamo Vediamo chi sarà il prossimo espulso, eh? Manca poco Tappeno Tasto delirio Vai, il delirio Oh, delirio Guarda, terremoto nello studio Mmmh Facciamolo anche noi Aiuta È un delirio gradevole, ma che lavoro? Ma scusa, ma il delirio per loro? Ah, il tasto pepe nero Certo, ma come si deve? Manina, manina Un'ora e ventotto alla chiusura Oddio, no Che meraviglia Zio Eccolo, eccolo Bando nero Brava Insegnamelo, insegnamelo Insegnamelo E insegnamelo E insegnamelo, carete E insegnamelo E insegnamelo No, ma non vado Perché è giallo Ma cosa sta succedendo? Che voce suave Mi sei fatto male? Perché è vero che sembra che soffrono E noi aggiusteremo con il c'è A we go Ma lo scopriamo nella prossima puntata ragazzi che è adesso, in questo istante Subito L'oltre è, chi ride? È fora Chi sarà? Eh, ho io o te Secondo me è Marta Che bei capelli Vai, 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 vai Non ha riso, però ha riso nella parte di quella che voleva, hai capito? Sì, sì Vabbè, brava Marta Salutiamo Marta Silvani L'hai chiamata in tutti i modi Come si chiama? Filippi Eh, Filippi Partiamo E allora butta fuori Si riparte ragazzi Soltiamo il cast di Mare fuori Guarda tu, tu amore Sono io Povero Dio Sono le signore E come mi marina Iniziamo i marina ma se non è sul palco ragazzi Fa la francese La francese? Io vi vomiterò In modo resistenzialista questo brano di Pellet Parapent Di Pellet Parapent Che pensate all'età di 93 anni Ha tentato il suicidio, non c'è riuscita E per la disperazione si è tolta la vita Ma come? Voila, 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 c'è son Voila, voila, c'è son Prova microfono, prova microfono, bri bri Camembert, camembert Formaggi a casa Attenzione Peppina Ma è peppina Fa il caffè No, geniale, bellissimo La rifà in francese La peppina fa il caffè Poi si mette la marmellata Miso chilo di scippoglie 4-5 caramelle Amore, mi ha tenuto il cavato di battaglia C'è Caffè Ma per torna disperata E resistenzialista Via vista Ma perché 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 Il caffè della pepina Non si beve la mattina Brava, brava Marina Vassiro Un'ora, amore 59 minuti, 59 secondi 59 minuti Alla fine Alla fine Cool E chi è questo adesso? Oh my god Io sarei morto a vedere una persona del genere che entro Bassa, pegata Ma poi l'improvviso Con la canotta con le stelle Alla stelle del Com'è che si chiama, cazzo? Del 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 E ho pensato Vabbè Sì Vogliono farci ridere col ballerino Ma un altro Ti piace? Sì Mi piace molto la musica Sì Ma sono proprio uguali Mi hanno fatto uguali Imitiamoli No, 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 no Se c'è un terzo esplodo No, un altro No, non ci credo Un altro? Porca vigno Ma indicata a me No, non è possibile Ma no, ma è un trucco speciale ragazzi Signore e signori Un altro gemello Stupendio Tu lì In quel momento pensi di avere le allucinazioni Capito? Certo Cioè è arrivato a quel punto Pensi di impazzire Marina Marina sta male Sta male Vieni Mettiti alla prova Dobbiamo uscire da eroi È vero Brava Risata Marina le lava Ma raga ma come fai? Marina è distrutta Ma Marina E meno male ha fatto il tempo a fare la francese esistenzialista Allora Marina fa tutto quello che doveva fare Quindi va bene così Per una concorrente speciale serve un'uscita di scena speciale Ecco la tua uscita di scena Ti lascio con loro Io adesso voglio sapere chi sono Ragazzi trovatevi su Instagram E commentate qua sotto Ripartiamo subito 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 Oh madonna Da questi che sono rimasti chi vince A questo punto Herbert Giochiamoci il pulsante Mimmo 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 vai Mimmo Il mio tasto preferito Oh oh Allacciate le cinture che adesso si ride Finalmente È arrivato Maccio Allora adesso vi combino per le feste Per le ferie Per le ferie Facciamo un trailer corale ragazzi Marco e Minno erano una coppia felice Quanto sono felice Io sono Marco o Minno? Io sono Minno Ah io sono Marco Bellissimo Sono molto felice Anch'io lo sono sai E allora baciamoci Ma cos'è? Ma cos'è? D'un blè? E per prendo non se la spetta No Qualcosa non mi quadra Una verità nascosta I tuoi piedi Eh li ho visti Fanno veramente cagare I piedi piedi È bello questo Un uomo che veniva dal passato Io ti ho riconosciuto Tu sei la donna Dai piedi neri Vedi? La donna dai piedi neri Ma l'uomo del passato si rivelò Un grosso cubazzone simpatico A me piacciono molto I tuoi piedi che fanno cagare Con tanta voglia di coccole Ho molta voglia di coccole sai Attento Attento Amore ma riso No ma no ma bene No scusa ma sta ridendo Ma questa cosa è la cosa più bella Amore ma riso Cioè amore scusa No scusa Si sta ridendo Ma sta ridendo Ma un grosso problema intestinale del pupazzone iniziò ad inoltrarsi Attenzione Una creatura che veniva da de de dentro Da de 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 dentro Aiutatemi Bello bellissimo Solo un uomo dallo spazio poteva fermarlo Vengo dallo spazio Un uomo dallo spazio per fermare una diarrea Attenzione la storia diventa bellissima Ma è partito tutto da una relazione che andava bene Dal regista di Drangiaglio Dal capo elettricista di Mario Aldo Magnosse Cino Parlatosse Parlatosse Franca cacammato Cacammato E per la prima o quinta volta sullo schermo cinematografò Sandro Pertini Sandro Pertini Bravissimo Per la prima o quinta volta Sandro Pertini Cioè Presidente italiano I panini sono buoni di più quando li mangi nel corridore Il corridore Il corridore Qualcuno ha riso finalmente Ma con questo scherzo Io penso sia la cosa più bella che abbia mai visto In tutti i lol Beh applauso a Maccio ma anche da loro Stati proprio bravi La nostra arma letale ha fatto il suo dovere Eh sì Sono qua per una doppia eliminazione Bam bam Nei migliori schermi No Brenda No ascoltami Luca stava ridendo da inizio dello scherzo Secondo me non l'hanno fermato per amore dello scherzo Secondo me posso dire Ti fermo io Paolo Cosa ho detto? Luca Comunque abbiamo continuato a invertire Viete eliminati da lol Brenda e Paolo Grazie Mi spiace un po' per Brenda Però Devi sapere amore Che una consolazione l'ha avuta Brenda Ha vinto l'Oscar con The Whale Brenda Fraser Allora adesso Rimangono in gara Herbert ballerina Luca E Fabio Balsamo Lol ti ride fuori Oh madonna Ma ci sembra la stessa cosa Mancano 20 Due minutes Guarda come schiacco il dito Aia che male Ah Non so ridere Non sa che ha riso Fabio eh Io non dico niente Io non dico niente eh Sta ridendo Eh che cazzo Eh No amore Non vince Herbert Il mio pupillo L'avevo puntato tutto 8 milioni di euro Su Herbert C'è quindi Fabio contro Luca? Ora è una sfida 2 Tra Fabio e Luca Ora vedremo Il duello proprio Agli ultimi colpi Che male Non ti fermavi più C'avevo la cassetta Falsa Eh beh certo Essendo Essendo No dicevo Essendo Essendo con gli occhiali Perché avevi la cassetta Che c'è gli occhiali No no infatti Infatti no no Sendo un magistrato Napoletano Luca io già lo so che cosa No 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 Vuol dire che tenga la cassetta Perché sono napoletano No Bello però questo Eccoci qua Oh subito Maestro Maestro come sta? Che bello rivedere Oh ragazzi È finita la trasmissione? No Tu vuoi andare a casa No Attenzione Nino entra quindi con difficoltà dentro lo stage Vediamo un filmato Non c'è Non c'è Bellissimo Alessandro Cecchi Paone Bello Molto bello E il fratello di Rita Paone Grazie Saluto tutto il pubblico Grazie Grazie E va via così con non scelanzi Non è riuscito a far ridere nessuno Beh però ha fatto ridere noi E questo conta tanto 15 minuti Vanno over time Ah 15 secondi 10 9 8 7 6 È stato un piacere 6 5 4 3 2 1 3 Quindi fine 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 18 19 19 20 20 19 19 19 20 20 21 21 22 24 25 25 25 26 26 27 28 26 28 Bello, è che sono abituato a sentire solo cagate, mi sembrava una gag, invece è tutto vero Quindi Luca donerà il suo compenso, la sua vincita, la metà, quindi 50.000 euro All'associazione che aiuta un reparto pediatrico di un ospedale E Fabio? Invece la mia è l'assitoio, associazione italiana osteogenesi imperfetta, è una malattia rara delle ossa Guardando l'etimologia della parola sembrerebbe la malformazione ossea Invece Fabio devolverà l'altra metà a un'associazione che aiuta la ricerca per questa malattia rara, ossea Ma e niente, alla fine ci fregate sempre Ma è emozionato Mi freghiamo chi? Beh è bello, bravi, bravi Ma non è finita qui Cosa c'è? Comunque adesso io vado a parlare di The All 4, business, business, business Attenzione The All 4, mi raccomando, noi ci siamo No tu, tu, amore Io ci sono Ragazzi scrivete sotto TonyiPants a LOL4 Ma anche commentare, non fare il comico Ah no, allora commentare anch'io allora Eh appunto, è quello che dico Reaction ai comici, che faccio io con lei Facciamo la reaction, io mi metto dietro, tanto Fedezze è stanco Sì, non c'è più voglia Fatelo stare a casa, che è sempre in giro, deve ricassarsi Ci sono io Noi siamo qui belli freschi Ciao, grazie, lasciate like ancora Commentate sotto con il parere vostro su questo Goal 3 Noi andiamo a mangiare Ciao Ciao Ciao